A pochi amici, Belen Rodriguez assicura che tutto procede per il meglio, ma molti dubitano delle sue affermazioni riguardo al ritorno in televisione e temono che con il nuovo fidanzato stia forse mentendo a se stessa, contraddicendo il suo precedente detto. Detesto mentire. Nonostante ciò, tre indizi sembrano convergere verso una situazione ben precisa. Belen è volata alle Maldive in compagnia dell'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, dichiarando di essere con lui da ben cinque mesi. La stessa località in cui era stata con due suoi ex, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Un copione che si ripete. Ma c'è di più, la showgirl condivide sui suoi social una foto in cui sfoggia un anello prezioso al dito, accompagnato da un inequivocabile sì, quasi a suggerire che l'ufficialità della loro unione sia il preludio alla legalizzazione. Belen, tuttavia, afferma di essere serena, ringraziando la vita per avere accanto Elio Lorenzoni, definendolo un uomo speciale. Dichiara di aver ritrovato la gioia nelle piccole e semplici cose e di non temere più il futuro, imparando a godere della vita giorno per giorno e a vivere nel presente. Tuttavia, le sue dichiarazioni recenti contrastano con ciò che comunica dalle lontane spiagge delle Maldive, dove non esita a condividere con il pubblico le presunte intenzioni del suo cuore. Il suo cuore, messo a dura prova in questi mesi, ha dovuto confrontarsi con le aspettative, le trappole e le insidie di una vita sotto i riflettori. La sua storia riflette il peso e l'insostenibilità del clamoroso successo. Una ragazza forte ma allo stesso tempo fragile, che affronta con coraggio i disagi emotivi portati dalla visibilità e che ammette di non essere stata così impermeabile, come pensava, alla pressione mediatica. Il recente termine della relazione con Stefano De Martino ha aumentato le sue paure e sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendola a desiderare di allontanarsi dai riflettori. Negli ultimi tempi, Belen ha ripreso a condividere sui social foto felici con il nuovo compagno e i figli avuti dai precedenti rapporti, Santiago e Luna Marie. Questa felicità sembra essere una sorta di favola che si racconta per convincere se stessa. Nel frattempo, è alla ricerca di una nuova casa, forse per liberarsi dei ricordi legati a quella in cui vive attualmente. Questo desiderio di futuro sembra contrastare con la sua necessità di concentrarsi sul presente e su se stessa. Come dimostra l'annuncio del suo imminente ritorno in televisione. In questo periodo difficile, Belen può contare sul sostegno dei suoi affetti più stretti, familiari, amici storici e i due figli amati. Sono loro gli unici che la conoscono veramente e con i quali si mostra autentica, perché sanno che, parafrasando una celebre frase di un film di Pedro Almodovar, Belen è tanto più autentica quanto più si allontana dall'immagine che ha sognato e fatto sognare di se stessa. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.